Buona giornata! Oggi Confucio ci insegna una cosa importantissima ma a tratte un po' strana. Vediamo di capire come mai. Ci dice che abbiamo due vite. Due vite! Bah! Tu mi vieni peric... Mmm... Buh! Vabbè! Ok! Allora, cominciamo subito. Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci accorgiamo di avere una sola. Confucio. Con questa frase, Confucio, ci vuole dire una cosa fondamentale. Che abbiamo due vite. Ma la seconda inizia solo quando ci accorgiamo di avere una sola. Quindi, mi raccomando, ricordati. Oggi fai memoria di questa cosa qui. Fai memoria che di vita ne hai una sola. Quindi, non cominciare a rimandare mille cose. A dire, no, ma questa cosa la faccio domani. Questa la faccio quando sto meglio. Questa la faccio quando ci sono le condizioni migliori. No! 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 Oh! Di vita ne hai una sola. Una sola. Quindi, mi raccomando, oggi, focalizzati sulle cose che sono importanti per te. Comincia, se non altro, a prenderne consapevolezza. Prendine consapevolezza e comincia a strutturare un minimo di piano d'azione. A capire queste cose se hanno un futuro, se non hanno un futuro. E se hanno un futuro, però, comincia a metterle su carta, a creare un tuo piano di azione. Che sia su carta, su computer, su quel che ti pare. Però, comincia veramente a muoverti verso queste cose. Perché di vita ne abbiamo una sola. E quindi, comincia ora. Oggi. Il qui è ora. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata. Ciao!